Capitolo 5 Due visite L'inverno passò, l'estate trascorse veloce e un altro inverno stava per finire. Nonno e nipotina avevano visto, detto e fatto assieme tante cose e Heidi, che era ormai nell'ottavo anno, aveva imparato dal nonno a farne da sola una grande quantità e sapeva trattare Cigna e Orsetta bene almeno quanto Peter e le due capre la riconoscevano e la seguivano ovunque. Durante quell'ultimo inverno Peter aveva riferito più volte che il maestro, aveva detto che lo zio dell'Alpe avrebbe dovuto mandare a scuola la bambina che teneva con sé, ma ogni volta il nonno aveva risposto Chi mi vuole sa dove trovarmi e anche non manderò Heidi a scuola Quando il sole di maggio sciolse la neve dei pendì, nella vallata spuntavano i bucaneve e gli abeti si erano scrollati di dosso il mantello bianco, così che i rami potevano di nuovo sventolare allegri. Heidi correva contenta qua e là, dalla capanna alla stalla e di lì sotto gli abeti e ritornava dal nonno a raccontargli come il pezzo di prato verde sotto gli alberi si era fatto più grande e poi correva di nuovo lì perché non vedeva allora che la neve si sciogliesse tutta e venisse la bella estate coi fiori gialli e blu Una mattina che faceva a quel modo avanti e indietro e per la decima volta arrivava di corsa alla porta di casa, per poco non cade dalla paura nel trovarsi davanti un vecchio signore nero che la guardava con serietà La piccola Heidi si fermò e cominciò a indietreggiare, ma lui le disse gentilmente Non avere paura, io voglio bene i bambini, dammi la mano Tu sei Heidi, vero? Il nonno dov'è? È dentro, seduta al tavolo e intaglia cucchiai tondi di legno, disse Heidi e aprì la porta al signore nero Era questo il vecchio parroco del Dörfli che conosceva bene il nonno dell'Alpe Ani prima era stato suo vicino, così gli si accostò dicendo Buongiorno vicino Il nonno levò gli occhi stupito, poi si alzò e disse Buongiorno signor parroco E porse una sede al visitatore continuando Se il signor parroco non disdegna una sede di legno Il parroco sedette e cominciò Non vi vedo da molto tempo vicino Così io, signor parroco Vengo oggi per parlarvi di una cosa e voi sapete già di che si tratta Il parroco tacque e guardò la bambina che era rimasta sulla soglia Il nonno disse Heidi, vada alle capre, portati un po' di sale e aspettami lì Heidi sparì subito Il parroco riprese La bambina avrebbe dovuto andare a scuola già l'anno scorso E di sicuro quest'inverno Il maestro ve l'ha fatto dire Voi non avete risposto Che cosa avete mente vicino? Di non mandarla a scuola E che pensate di fare di lei? Chiese il parroco esterefatto Ma all'apparenza impassibile Perché il vecchio pariva ben fermo di volte d'intenzioni Niente, cresce e prospera con le capre e gli uccelli Perlomeno da loro non impara niente di male Ma la piccola non è una capra né un uccello È un essere umano Se dai suoi compagni non impara nulla di male Non impara neanche nulla di bene È ora che vado a scuola Adesso è maggio Avete tutta l'estate per pensarci Ma l'inverno prossimo Heidi deve andare a scuola E tutti i giorni No, disse il vecchio E credete che non ci siano i mezzi per ricondurvi alla ragione? Voi avete girato il mondo e conosciuto tante cose Vi credevo più ragionevole Il vecchio rispose E la sua voce tradiva ora l'inquietudine E voi, signor parroco, credete che d'inverno Io mandi questa bambina delicata A farsi due ore di strada giù per la montagna E poi risalire la sera Magari nella tormenta Voi ricorderete sua madre Adelaide come era debole Volete che Heidi sia ammali Per gli strapazzi? No, no Nessuno potrà costringermi a mandarla Sono pronta ad affrontare qualsiasi tribunale Il parroco rispose gentilmente Avete ragione vicino Non è possibile mandare a scuola la bambina da qui Ma vedo che le volete bene Fate allora per amore di lei Quello che già avreste dovuto fare Trasferitevi in paese Tornate a vivere fra gli uomini Che vita è mai la vostra quassù solo Con dentro il cuore rancore per Dio e per gli uomini E se vi capita qualcosa Chi vi aiuta? Già non capisco Come non vi assideriate Come la piccola sopporte l'inverno quassù La bambina ha il sangue giovane E una buona coperta Io so provvedere alla legna So quando e dove prenderla Senza far danno agli alberi E ne ho una provvista tale Da non far mai spegnere il fuoco in casa mia Tutto l'inverno Non posso tornare laggiù come dite voi Gli uomini mi disprezzano Io disprezzo loro Star lontani va bene a me E a loro No Per voi non è un bene Io Lo so cosa vi manca E poi il disprezzo della gente È meno grande di quanto credete Datemi retta Cercate la pace con Dio Chiedete a lui il perdono Se e dove vi occorre E poi venite Venite a vedere come diversamente sarete guardato Anche dagli uomini Potrete stare bene ancora E il parroco si alzò Pursè la mano al vecchio e disse Ci conto vicino L'inverno venturo sarete di nuovo con noi Mi dispiacerebbe se vi si dovesse costringere Su datemi la mano Il nonno dita la mano al parroco Ma disse deciso Il signor parroco ha buone intenzioni Ma io non farò quanto egli si aspetta da me Non mando alla bambina Ne vengo giù io Che il signore vi aiuti Disse il parroco Uscì triste dalla porta e se ne andò Il nonno fu di cattivo umore Tutta la giornata E quando Heidi disse Andiamo dalla nonna Rispose Oggi no E poi non parlo più Anche il giorno appresso Rispondeva brusco e con poche parole Ma prima che le ciotole del pranzo Fossero state riposte Arrivò un'altra visita La zia Dete Aveva in testa un bel cappello con la penna Un vestito così lungo che spazzava il pavimento Il nonno la guardò dalla testa ai piedi E non disse una parola Ma Dete era lì per fare un discorso amichevole Che era sicura sarebbe stato bene accolto Cominciò quindi con il lodare tutto Disse che Heidi stava così bene Che quasi non la riconosceva E si vedeva quindi come stava bene con il nonno Disse di aver pensato sempre alla bambina E a riprendersela come era suo dovere Perché di certo la piccola era Di impaccio allo zio dell'Alpe Ma che finora non aveva potuto Ne avrebbe saputo dove metterla Tuttavia giorno e notte Aveva sempre pensato a come sistemare Heidi E adesso era venuta proprio per questo Ecco c'era un'occasione incredibilmente buona per Heidi Una fortuna ma una fortuna Come ne capitano una su centomila Lei l'aveva ben valutata E si era fatta un'opinione sicura Dunque parenti molto ricchi dei signori Presso i quali lei faceva la cuoca Ma proprio molto ricchi Persone che vivevano in una delle più belle case di Francoforte Anzi forse nella più bella o quasi Avevano l'unica figlia malata Era paralitica E doveva stare sempre su una sedia a rotelle E non poteva neanche andare a scuola Studiava a casa con un maestro Ma questo per lei era noioso E non aveva neanche una compagna di giochi La governante aveva detto Che ci voleva una bambina non viziata Una bambina fuori dal comune E lei, Döte, aveva subito pensato a Heidi E eccomi qui Perché poi Non si può sapere quali altre fortune potrebbero capitare Una volta che quei signori avessero preso Heidi a ben volere Se fosse successo qualcosa a quella ragazzina Che era così deboluccia Non si può mai sapere Se quei signori rimanendo senza figlia Non si può mai dire Hai finito? La interruppe lo zio Bah, fece Döte Drezzandosi ancor più sulla sedia Così che la pena sul cappellino Si mosse anch'essa Vengo a dirvi qualcosa A portarvi una notizia Che chiunque ringrazierebbe Portala chi vuoi la notizia Non voglio saperne Allora Döte scattò in piedi e gridò Se è così che l'intendete zio Vi dirò il mio pensiero La piccola ha oggi otto anni Non sa niente E voi non la mandate a scuola Né in chiesa È l'unica figlia di mia sorella Ne ho io la responsabilità E non voi che vivete Quassù come un orso A Heidi Capita una fortuna rara E solo un egoista Che non le augura il bene Può ostacolarla Tutte le persone Con le quali ho parlato Sono dalla mia parte Se volete che finiamo in tribunale Per me va bene Ma forse non per voi Lì potrebbero rispuntare Alcune cose sul vostro conto Che oggi forse Molti hanno dimenticato Ma che non credo Sentireste volentieri Quando si ha a che fare Con la giustizia Sapete Basta Urlò il vecchio Con occhio di fuoco Prenditela e rovinala Ma non portarmela Più davanti Non voglio vederla Mai con in testa e cappello Con la penna In bocca parole Come le tue E il nonno Uscì lui Uscì lui dalla porta Ecco Hai fatto arrabbiare il nonno Disse Heidi Con occhi infuriati E passerà Vieni adesso Prendi i tuoi vestiti No Non vengo Che dici? Gridò la zia Poi Cambiò tattica E continuò Con tono gentile Quanto seppe Vieni Heidi Tu non puoi capire Te la passerai così bene Come non puoi immaginare E intanto Rubi stava Nell'armadio del nonno Prendeva le cose di Heidi E ne faceva un fagottello Mettiti il cappellino E andiamocene Io non vengo Ripete la bambina Non essere cocciuta Come una capra Va bene che avrai imparato Da loro Ma cerca di capire Per ora il nonno È arrabbiato Ma come? Non hai sentito Che ti manda via con me? Ha detto che non ci vuole più Certo L'ha detto perché Per ora è arrabbiato Ma tu adesso vieni con me E così lo fai contento Poi Quando vuoi tornare Sai A Francoforte È tanto bello Ma se non ti piace Vuoi tornare Intanto a nonno La rabbia sarà passata Posso tornare subito? Anche stasera? Ma sì Sì Te l'ho detto Che puoi tornare Oggi Andiamo giù Fino a Mayanfield E domani mattina Prendiamo il treno È una cosa bellissima Il treno Corre veloce E così puoi anche Ritornare di corsa Quando vuoi È come volare Vedrai Con il fagotto Dei vestiti sotto il braccio E Heidi per mano La zia Dott Scese giù Dalla montagna E incontrarono Peter Il quale avrebbe dovuto Sì essere a scuola Ma ogni tanto Giudicava più utile Prendersi una vacanza Per raccogliere legna Per il fuoco Così Con un gran fascio Di rami di nocciolo Sotto il braccio Tornava a casa sua Peter si fermò A guardare Le due che scendevano Dove stai andando In chiesa Heidi Vado un momento Francoforte con la zia Ma prima voglio fare Una visita alla nonna Che mi aspetta Figurarsi Dette No no È già troppo tardi Disse trattenendo Heidi Che la tirava Ci vai quando torni Andiamo su E trascinò via la bambina Tenendola ben stretta Peter si precipitò Nella capanna E sbatté sul tavolo Il suo fascio di legno Così forte Che la casa tremò E la nonna All'arcolaio Si preso uno spavento Che succede? Che c'è? Che è stato? Gridò E la madre Che stava proprio al tavolo Disse con la solita flemma Perché fai così? E Peter Con tutta l'emozione Di cui era capace Con quella Se l'è portata via Se l'è Se l'è portata via Urlò Chi? Dove? Chiese la nonna Ma dovete capire subito Perché la figlia Le aveva detto Prima di aver veduto Dette Salire verso la baita alta Allora la vecchietta Si alzò E gridò dalla finestra Dette Dette Non portartela via Non toglierci Heidi Questa la sentì E ricominciò A tirare indietro La nonna mi chiama Devo andare Ma la zia Le parlò Con voce convincente Le disse Che se facevano tardi Perdevano il treno E prima fossero andate Prima sarebbero tornate E che Heidi Avrebbe portato Da Francoforte Alla nonna Un bel regalo Quest'idea Piacqua alla bambina Che si mise a camminare Tranquilla Anzi Presto fu lei Ad andare avanti E intanto diceva Ma che le porta Alla nonna Quello che vuoi Una cosa buona Che le piaccia Dei bei panini morbidi I bianchi Come qui non si fanno Vedrai Sì è vero Le andrebbero bene Perché lei Stenta sempre A mangiare il pane nero Che è duro E lo dà Peter Sì sì Allora Corriamo Zia De Così arriviamo Oggi stesso a Francoforte E ritorniamo subito Con i panini E si mise a correre I grandi passi ritmati Dal grosso bastone Con la sua gerla Da formaggi sulle spalle Con i folti sopraccigli Contratti Aveva un aspetto Più minaccioso Che mai E le donne dicevano Dentro bambini Dentro C'è il vecchio Dell'Alpe Potrebbe farvi Del male Egli Tirava dritto Attraverso Tutto il Dörfli E proseguiva giù Nella vallata Dove contrattava I suoi formaggi E rinnovava La provvista Di pane e carne Tutti più che mai Lo dicevano Selvagio e cattivo E si rallegravano Della gran fortuna Che la bambina Gli fosse sfuggita E si era visto Come correva Povera piccola Paurosa Che lui la inseguisse Solo la nonna cieca Lo difendeva E a chiunque Venisse a portarle La lana da filare O a ritirare il filato Diceva sempre Che il vecchio Aveva trattato Amorevolmente Attentamente La bambina E raccontava Dei pomeriggi Da lui passate A riparare La vecchia casetta E che lei Lei e sua figlia Gli sarebbero state Sempre grate Perché senza Quel lavoro La loro dimora Di certo Sarebbe crollata Sì Anche queste voci Arrivavano al Dörfli Ma la gran parte Di coloro Che le raccoglievano Pensavano Che la nonna Fosse ormai Proprio troppo vecchia Per capire E che Certo Oltre che cieca Era anche sorda Il vecchio Non si faceva più vedere In casa di Peter La nonna Cominciava di nuovo La giornata Sospirando E la trascinava Lamentandosi Che senza La compagnia Di Heidi Il tempo Non passava mai Capitolo 6 L'arrivo In casa Clara stava Nella sua solita Poltrona a rotelle Nello studio contiguo Alla stanza da pranzo Aveva un faccino Sottile palido E dolci Occhi azzurri Malgrado le grandi E severe Librerie Alle pareti Tutta la stanza Era accogliente E comoda Clara passava lì Quasi l'intera giornata E riceveva le lezioni Del maestro Alla grande scrivania Adesso però Stava a guardare L'orologio Appendolo Che le pareva Andasse più lento Che mai Non è ancora ora Signorina Rottermeier Questa non rispose E continuò Impettita A ricamare Avvolta nello scialle Il sospetto solene Era completato Da un'alta Complicata Pettinatura a cupola Questa signorina Viveva in casa Sesemhan Da quando era morta La mamma di Clara E guidava L'andamento Della casa E il personale Tutto era affidato A lei Dal signor Sesemhan Che viaggiava molto E le lasciava Piena libertà Di disporre Purché ogni decisione Fosse prima Sottoposta A giudizio Di Clara Adesso Clara Continuava a guardare Impaziente L'orologio E non sapeva Che Döte E Heidi Erano già All'apportone Chissà Se a quest'ora Possiamo disturbare La signorina Rottermeier Chiese Döte Prima A se stessa Poi al cocchiere Sceso di cassetta Non sape di dirlo E alla sommità Il grecamo E senza Sguardo per Döte Ricordo L'altro Bambina Che Peter Misericordia Non sai leggere Davvero non sai leggere Gridò con orrore La signorina Ma com'è possibile E allora Che cosa hai imparato E niente Disse Heidi La signorina Rottermeier Respirò E riflettè Qualche momento Poi disse Calma Signorina Döte Non erano Questi i nostri accordi Come avete potuto Portarmi Un simile essere Ma Döte Non era tipo Da mollare Tanto presto Col suo permesso La bambina È proprio Quale avevo capito Che voi voleste Mi avete chiesto Una bambina Non come le altre E solo per questo Io ho scelto Heidi Quelle più grandi Da noi non sono più Così naturali Ma ora Devo andare I miei signori Mi aspettano Fece un bel inchino Uscì dalla porta E rapida dalla casa La signorina Rottermeier Aprì la bocca Per trattenerla Poi Rincorse Döte Ma in vano Presto comprese Che Döte Era venuta Ben decisa A lasciarle lì Quell'essere E Che gliel'aveva lasciato Heidi stava ferma Nel punto preciso Di prima Rimasta sola Con lei E Clara Le fece un cenno Vieni qui Heidi le andò accanto Come preferisci Essere chiamata Heidi oppure Adelaide Io mi chiamo Heidi e nient'altro Allora ti chiamerò Sempre così È un nome che ti sta bene Anche se io Anche se io non l'avevo Sentito mai Nemmeno una bambina Che ti assomiglia Ho mai vista I capelli Lei sempre avuti Così corti e ricci Credo di sì Sei venuta Volentieri A Francoforte No Ma torna a casa E porta la nonna I panini bianchi Domani Alza il libro Maestro è buono E ti spiega tutto Solo che non si capisce niente Quando spiega Ma tu stai zitta E non far domande Se no lui ti spiega Ancora di più E tu capisci Meno di prima Ci vuole invece Un po' di pazienza E vedrai che Dopo che avrai imparato Da te qualche cosa Capirai pure Quello che voleva dire lui Sarà divertentissimo Concluse Clara Soddisfatta Tornò la signorina Agitatissima Era molto incerta Sul da farsi Perché non poteva dire Alle bambine Il proprio disappunto Né poteva rimediare Da sola A una situazione Da lei stessa creata Fece un po' avanti E indietro Poi dallo studio Corse in sala da pranzo E le disse a Sebastiano Che contemplava immobile La tavola apparecchiata Che gli rimandi Ad altro giorno I suoi profondi pensieri E ci mandi in tavola Perché la signorina Parlava a Sebastiano Sempre come se non fosse Lì presente Ma lontano Poi chiamò Tinette Con voce tale Che quella Venne trotterellando A passetti più piccoli Del consueto E con un'espressione Così sprezzante Che la stessa notte Mai non ebbe l'energia Di dirle altro Che Finisca di sistemare La camera dell'ospite Ne val proprio la pena? Borbottò la ragazza E se ne andò Adesso Sebastiano Spingeva di malumore La sedia a rotelle Di Clara Heidi lo guardò bene Di sotto in su E gli disse Con voce fresca Lo sai? Somiglia a Peter Laudì La governante La quale gemette È mai possibile A tal punto Adesso Da del tuo La servitù Ma proprio Le mancano le basi Quando furono a tavola Loro tre soltanto Mentre Sebastiano Rimaneva in piedi Per servire Heidi si rallegrò Al vedere accanto Al proprio piatto Un panino bianco Proprio un panino bianco E Sebastiano Somigliava a Peter Quindi Non doveva E esserle amico Così quando Questi le porse Un grande piatto Pieno di pesciolini fritti Egli disse piano Indicando Il panino Posso prenderlo? E Sebastiano Le fece scena di sì Con sguardi obliqui Alla signorina E poi sorrise Heidi Allora Con gesto fulmino Fece sparire il panino In tasca Poi chiese Posso prendere anche da mangiare? Sebastiano Teneva il piatto di portata Ma non aveva il permesso Di parlare Né di muoversi Così La scena era ferma Poi il piatto Tenuto da Sebastiano Cominciò a ondeggiare Pericolosamente Può mettere il piatto Sulla tavola Concesse la signorina Rottermaie Sebastiano Eseguì E scomparve Ho capito Con te Adelaide Devo cominciare Dal principio Sospirò la signorina Anzitutto Devo insegnarti Come ci si serve A tavola Ed elencò Una sfilza di regole Poi A tavola Non devi parlare Con Sebastiano Se non per dargli un ordine E sempre Devi parlare Con lui Usando la terza persona Devi dirgli Lei O lui Capito E lo stesso Con Tinette O lei O cameriera Tinette Me Chiamami come Senti che mi chiamano Gli altri Quanto a Clara Deciderà lei Come vuole essere chiamata Clara Naturalmente Disse Clara Poi proseguì L'esposizione Delle regole Di buon comportamento Come alzarsi Salutare Per andare a letto Come entrare Come uscire Tenere in ordine Chiudere le porte E così via La signorina La signorina Rottenmeier Parlava Heidi Che in quella Lunga giornata Aveva fatto Il lunghissimo Viaggio in treno Si appoggiò Allo schienale Della sedia E si addormentò Quando dopo pochi minuti Poi quella E quella della governante Fino alla camera D'angolo Che le era stata Destinata Heidi Pur camminando Con i propri piedi Continuò a dormire Fino a letto E fino al mattino Dell'indomani D'angolo